Dignità per i sindaci, servizi per i cittadini, servizi sempre più efficienti, dignità per i sindaci. I sindaci sono responsabili delle amministrazioni comunali che non sono destinatari di contributo ogni tanto ma che sono parte della Repubblica insieme con le regioni e con lo Stato. Chiediamo rispetto, chiediamo di non essere chiamati a rispondere per responsabilità di altri o di altre istituzioni. Non chiediamo impunità, chiediamo soltanto che si applichi bene da rigorosi il principio, la responsabilità personale e individuale. Tanto a questo, insieme con i sindaci Liguri e con i sindaci di tutta Italia, diciamo che il federalismo fiscale è fallito. Diciamo che bisogna tornare alla finanza derivata, diciamo che occorre che lo Stato si faccia carico soprattutto in realtà come la Sicilia dell'accattivo funzionamento di quel servizio di discussione che dipende proprio dallo Stato. Il Comune di Palermo negli ultimi anni ha dato un miliardo di imposte da incassare, dopo averne accertato lottando l'evasione, ricevendone in cambio soltanto di incassate 300 milioni. Chiediamo che la differenza sia fatta carica appunto a chi è responsabile, cioè l'agenzia delle discussioni che adesso è l'agenzia delle entrate. Scegliamo questo credito allo Stato al 10%, al 20%, al 30%, facesse quello che vuole, ma non faccia pagare ai sindaci e ai comuni le responsabilità che dipendono da un riscossore che dipende proprio dallo Stato.